Ciao a tutti! Come dimagrire con la mente? In questo video ti insegnerò una tecnica per utilizzare la tua mente per riuscire a seguire una dieta e per dare delle indicazioni all'universo su come deve essere il tuo corpo, su come deve essere il tuo fisico. Prima però iscriviti al canale, seguimi sulla pagina Instagram Massimo Terramasco e iscriviti al nuovo canale Crescita Personale con Massimo Terramasco canale dove tratto temi legati alla crescita personale in amore, nella sessualità, nell'autorealizzazione. Credo che sia un canale che possa interessarti molto, è nato da poco ma sta andando molto bene quindi vatti a iscrivere, facci un giro almeno, se ti piace iscriviti. E ti ricordo che farò un seminario online sulla legge d'attrazione e lo farò invece sul mio canale Felicità Benessere e per partecipare devi andare sul mio canale Felicità Benessere e ti lascio il link qua sotto comunque tastino abbonati, vicino al tastino iscriviti e ti devi abbonare, selezionare l'abbonamento Seminari Online. Poi la registrazione del seminario che sarà online ti resterà per un mese e quindi avrai tutto il tempo di vedertelo, rivedertelo e stravedertelo. E adesso veniamo dunque al tema. Allora, come fare a dimagrire utilizzando la mente? Allora, la nostra mente crea la realtà se i nostri pensieri sono profondi. Quindi, ovviamente tu devi avere un piano alimentare che ti farei fare da un dietologo, insomma da chi credi devi avere un piano alimentare, una dieta quindi perché poi ci sono ognuno le sue deve andare da uno specialista oppure se tu hai le tue idee, non lo so comunque devi avere un piano alimentare giusto ma soprattutto poi è importante seguirlo ed è importante anche che il nostro metabolismo si allinei in modo tale che la nostra mente possa, diciamo così costruire, plasmare la realtà che vogliamo ottenere. Allora, quindi ci sono persone che ad esempio fanno anche un programma di allenamento sportivo e vogliono mettere su massa muscolare persone che vogliono dimagrire insomma, vuoi ottenere dei risultati la tua mente può farlo si utilizzano questi principi il principio dello stato di coscienza lo stato di coscienza deve essere uno stato di coscienza diciamo meditativo o di autipnosi scusate e poi, una volta che hai raggiunto questo stato devi dare delle indicazioni alla tua mente perché lo stato di coscienza è un po' il terreno fertile e le indicazioni che dai sono il seme che pianti, no? quindi prima lo dobbiamo rendere il terreno fertile poi dobbiamo seminare allora, quindi ti chiedo di metterti in una posizione comoda seduto con la schiena eretta ma non tesa è utile avere una sedia ad esempio come io una sedia che ti consenta di tenere la schiena eretta ma non tesa e stare comodo schiena eretta perché? perché nella concezione esoterica del corpo umano ci sono dei chakra dei centri di energia che sono quelli che ci danno praticamente tutte le le possibilità di interagire con l'universo andare verso l'universo universo e quindi, insomma, senza andare a troppe spiegazioni perché non è questo il tema comunque il tema dei chakra lo tratto nei miei vari canali tu potrai ottenere dei risultati molto molto interessanti quindi utilizzando proprio i chakra quindi metti in una posizione comoda con la schiena eretta le braccia rilassate lasciarle appoggiate ad esempio sulle gambe le gambe non incrociate ma se sei seduto così è difficile seduta così è difficile e poi spalle rilassate braccia rilassate quando ti sei messo in una posizione comoda perché è importante essere in una posizione comoda comunque chiudi dolcemente gli occhi e mentre sei con gli occhi chiusi e ascolti il suono della mia voce porta l'attenzione sul respiro sull'aria che entra e che esce dai tuoi polmoni e ti chiedo di immaginare che facendo tre profondi respiri nei primi tre respiri l'aria possa entrare dalla narice sinistra ne espirando fuori dal naso possa uscire dalla narice destra quindi posso entrare dalla narice sinistra e posso uscire dalla narice destra per tre respiri dopodiché immagina che l'aria entri dalla narice destra e esca dalla narice sinistra per altri tre respiri e mentre questo succede il tuo corpo diventa sempre più pesante sempre più pesante e rilassato pesante e rilassato e adesso che il tuo corpo è pesante e rilassato ti chiedo di metterti una foto nella mente come se la tua mente divenisse lo schermo di un cinema metti una foto nella tua mente metti la foto del tuo corpo dell'immagine ideale che tu vuoi raggiungere dell'immagine ideale del tuo corpo dentro ognuno di noi esiste un'immagine tieni presente che se uno di noi ha un'immagine interiore di se stesso grassa tenderà a uniformarsi a quell'immagine se uno di noi ha un'immagine di se stesso eccessivamente magro e debole tenderà a uniformarsi a quell'immagine queste immagini non sono consapevoli per cui adesso quello che facciamo è immettere consapevolmente una nuova immagine di noi stessi e questa immagine consapevole gradualmente giorno dopo giorno andrà a prendere il posto delle immagini inconsapevole giorno dopo giorno perché tu l'alimenterai giorno dopo giorno con i tuoi pensieri perché tu l'alimenterai giorno dopo giorno con questa meditazione puoi anche farla ascoltando il video e lasciandoti andare giorno dopo giorno con questa meditazione e allora metti nella tua mente l'immagine del tuo corpo il corpo che vorresti ottenere visualizzalo e adesso inizia a sperimentare l'emozione forte che provi quando il tuo corpo inizia ad andare verso questo obiettivo quando il tuo corpo inizia a diventare come tu vorresti guardi i successi e i progressi che farai giorno dopo giorno e via via che fai questi progressi lascia che l'emozione di gioia di piacere di benessere dentro di te cresca sempre di più cresca sempre di più lascia che tutto questo accada e adesso ripeti nella tua mente il mio corpo è come io desidero 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 il mio corpo il mio corpo è come io desidero il mio corpo continua a ripeterlo nella tua mente Lascia che queste parole sedimentino dentro di te Diventino un seme che inevitabilmente darà i suoi frutti Diventino un seme che inevitabilmente crescerà dentro di te Lascia che tutto questo accada Mentre continuo ad ascoltare il suono della mia voce E adesso ti chiedo ancora di provare le sensazioni Le sensazioni di avere il corpo che desideri Quello che puoi fare Come ti vedono le altre persone Ma prova soprattutto le sensazioni Le sensazioni che tu hai a muoverti e camminare Prova le sensazioni E mentre tutto questo accade E continui ad ascoltare il suono della mia voce E respiri Tutto questo diventerà la tua realtà E automaticamente l'universo ti darà le indicazioni Su cosa fare, come comportarti Come agire Perché qui ed ora accada tutto questo Che cosa fare, come comportarti Che cosa fare, come comportarti e adesso che tutto questo si è realizzato e farai questa meditazione giorno dopo giorno e giorno dopo giorno tuo corpo diventerà come tu vorrai quotidianamente ripetendo questa meditazione anche ascoltando tranquillamente il video così non devi assolutamente fare sforzi adesso che tutto questo è accaduto ti chiedo di iniziare a muovere le mani, le braccia, le gambe, la testa iniziare a muovere e aprire anche gli occhi e sentirti bene già hai intrapreso un passo importante verso un cammino che inesorabilmente raggiungerai e adesso che tutto questo è a posto ti chiedo di fare un bel sorriso perché tu sorridi alla vita e la vita ti sorriderà bene, allora lascia i tuoi commenti qua sotto scrivi quello che ne pensi di questa tecnica se ti dà dei risultati insomma scrivi i commenti che preferisci in modo tale da dare un contributo a tutta la community e poi ti chiedo di iscriverti al canale mi raccomando iscriviti al canale seguimi sulla pagina Instagram Massimo Terramasco ed iscriviti al mio nuovo canale Crescita Personale con Massimo Terramasco nel quale ti trovo il link qua sotto e ti ricordo inoltre metterò anche il link del seminario online che farò sul canale Felicità Benessere a cui potrai partecipare martedì 5 maggio dalle 20.30 alle 23 per partecipare devi andare sul canale ed abbonarti nella sezione abbonamenti a seminari online bene per questo video è tutto ti do appuntamento al prossimo ciao